Abbiamo cominciato un bellissimo viaggio, lo abbiamo cominciato l'anno scorso, lo vogliamo continuare anche quest'anno. Ci siamo trovati bene come compiani di viaggio, anche perché siamo indispensabili uno all'altro. Noi non potremmo fare molte delle nostre iniziative se non ci fosse l'acquedotto pugliese che chiude il ciclo dell'acqua. Una battuta che mi piace sempre ricordare quando noi parliamo di tartarughe marine. Cosa troviamo nelle tartarughe marine? Troviamo quello che viene buttato in montagna, che passa attraverso l'acqua, e vedete quanto è importante aver cura del ciclo dell'acqua, e arriva direttamente a mare. Ecco, noi vogliamo promuovere nella nostra regione quello che succede, quello che fa succedere l'acquedotto pugliese, perché le buone pratiche di acquedotto pugliese noi le dobbiamo moltiplicare, le dobbiamo far conoscere. E' indispensabile questo viaggio che noi stiamo facendo insieme e che ci porterà sicuramente verso traguardi molto importanti.